Il Palacongressi di Rimini ha ospitato il 33esimo congresso nazionale forense, massima assise dell'Avvocatura italiana. Un evento organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Rimini per conto del Consiglio Nazionale Forense e dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura italiana. Ha accolto oltre 2.500 partecipanti in tre giorni, in una location per eventi all'avanguardia. Sono stati utilizzati tutti gli spazi del palazzo, che vanta fino a 39 sale e 11.000 metri quadrati di area espositiva. Arzanà, società di comunicazione e organizzazione eventi, ha ideato e gestito ogni aspetto del congresso. Con competenza e professionalità ha saputo proporre una location fuori dagli schemi, realizzando un evento unico. Il Palacongressi ha risposto con un progetto scenotecnico personalizzato di alto impatto, allestimenti prestigiosi e tecnologie di ultima generazione. Un'occasione per mostrare l'estrema versatilità della struttura e la possibilità di rapidi cambi di scena. Perché il Palacongressi di Rimini sa trasformarsi e rendere unico ogni progetto. Il lavoro di squadra, tra staff ed organizzatore, è stato ancora una volta vincente.